La svolta nella seconda guerra punica si ebbe solo quando il console Publio Cornelio Scipione assunse il comando dell'esercito. Egli trasferì le operazioni militari in territorio nemico. Nel 204 a.C. sbarcò in Africa e sconfisse Annibale a Zama nel 202. Il trattato di pace prevedeva durissime condizioni per Cartagine, la consegna della flotta e di tutti i territori fuori dall'Africa, il divieto di fare guerre senza il consenso romano e una pesante indennità di guerra. A seguito della vittoria sui cartaginesi nel 197 a.C. furono create le province della Spagna citeriore e ulteriore. Grazie a tutti!